Capitolo 5. Improbabili ritorni. Marcellino Vicari. L'entusiasmo di Loris per l'autostop influenzò molto il nostro gruppo. Anche il fatto di non avere soldi fu di aiuto, così con uno zaino e un pollice si partiva. Una tappa obbligata era Taizze, dalle parti di Cluny in Borgogna. Taizze la visitamo tre volte e altrettante ne fumo espulsi. La quarta volta evitamo di tornare. 700 chilometri, affidandoci al caso. E non era neanche il viaggio più lungo. Ci caricavano i camionisti, poi ci procuravano passaggi con le loro ricetrasmittenti CB. Nelle aree di sosta dell'autostrada passavamo di camion in camion. I camionisti tra loro parlavano in codice. Sono sulla grande carreggiata con due gringhelli. Devono prendere la carraia per... Eravamo gringhelli e gringhelle. Si dormiva fuori, sotto un cavalcavia, sul retro di una stazione di servizio. Poi arrivavi. A volte impiegavi un giorno, altre volte due o tre, ma arrivavi. Potevano succedere imprevisti lungo il viaggio. E alcuni furono proprio rocamboleschi. Nei recinti dei Pascoli, ad esempio, c'erano bacche e tori. Il toro controlla il suo aree. E garantisce sicurezza e difesa del proprio territorio. Una sera, era già buio, Loris ebbe necessità di apartarsi. Vide un recinto e ci saltò dentro. Fu così che scoprì che anche gli stalloni difendono il territorio. Infatti, nel nero pece della notte senza stelle, si sentì un potente nitrito ed un pesante scappiccio di zoccoli sul terreno. Fu così che Loris si esibì nel migliore salto ad ostacoli al buio che nessuno prima di allora avesse mai sperimentato. A Taizè ti accoglievano in una tenda con pagliericci, o anche niente, e dormivi lì per terra. Un anno Loris mostrò la sua vistosa cicatrice alla spalla, mentre io zoppicavo da consumato attore. Due giovani suore si impietosirano e ci diedero il loro letto. Dormirono per terra nella tenda comune, al nostro posto le brave suore. Incontravi tutte le lingue del mondo e persone incredibili. Un vecchio tossico che ti mostrava le autostrade di vene tutte rovinate dai buchi cercava di convincerti, o convincersi, che stava cambiando, anche se dopo un po' ti chiedeva soldi, o almeno un limone. Oppure la bellissima spagnola Mora, che camminava scalza col suo vestito da flamenco giallo e arancione, leggermente pazza, ma andava bene uguale. Ti dovevi impegnare iscrivendoti ad un gruppo. C'erano il Cooking Group, il Cleaning Group, il Prayer Group e molti altri. Noi creiamo lo Swimming Group. Andavamo a nuotare un fosso lì vicino. Una sera ci incaricarono del Silence Group. Ci diedero vari cartelli in varie lingue, dovevamo girare per la comunità ed invitare tutti a fare silenzio e a dormire. Ho trovato un prato. Piantammo a cerchio tutti i cartelli e con i sacchi a pelo dormimmo beatamente, avvolti dal rispettoso silenzio della comunità. La chiesa di Taizè è maestosa, piena di lumini che calano dal soffitto, senza panche né sedie. In centro, un grande Cristo crocefisso sdraiato a terra. Molti si stendevano al suo fianco per pregare. Ivano dormì abbracciato al Cristo crocefisso. La scena era tenera e dolce. Poteva sembrare un legame d'amore profondo. Purtroppo, il russare deciso nella grande chiesa silenziosa non poteva passare inosservato. A Taizè c'erano le docce calde a pagamento. O le dolce fredde, molto fredde, terribilmente fredde, ma queste erano gratis. Quando ci lavavamo, i nostri ululati scuotevano il villaggio, ma era solo un modo per cercare di superare il trauma. Biggie, una volta rimase incastrato in una doccia, sbraitando per il freddo, fu costretto ad arrampicarsi sulla porta per uscire. Prima di lui, terrorizzati, uscirono tutti quelli che erano nei bagni. Vivere senza spendere soldi era un'impresa complicata, ma la sfida ci colse preparati. C'era un negozio, una specie di bar con un piccolo supermercato, dove comperavi quello che serviva dal sapone alla birra, lo Jacques. Quando entraviti, consegnavano un biglietto dove veniva scritto quello che comperavi. All'uscita consegnavi il biglietto e pagavi. Era troppo facile. Entravi in due, uno segnava nel suo biglietto tutto quello che prendeva, nel secondo biglietto segnavi gomme da masticare. All'uscita pagavi le gomme e nascondevi il resto. L'anno dopo, consegnavano un biglietto che alla fine si doveva restituire anche senza acquisti. Una persona, un biglietto. Ma non era impossibile. Richiedeva solo più fantasia. Si entrava e ti davano un biglietto. A fianco, fuori dallo Jacques, c'era una finestra dove potevi comprare hot dog con la mustard, una senape abbastanza forte. Perché i francesi chiamino mustard alla senape non si sa, ma funziona così. La procedura era semplice. Entravi, prendevi il biglietto e andavi in giro cercando gli hot dog. Poi ti avvicinavi alla cassa, sfoderavi il miglior sorriso ed il peggior inglese, operazione piuttosto semplice, vista la nostra conoscenza delle lingue, chiedendo alla simpatica cassiera dove comprare l'hot dog. Lei, cercando di aiutare lo sfortunato avventure, ti spiegava che gli hot dog erano all'esterno. Con molti saluti e riverenze, uscivi nascondendo il biglietto bianco. Quando tornavi, magari il giorno dopo, prendevi un nuovo biglietto, comperavi di tutto e in cassa lasciavi il biglietto bianco del giorno prima. Lo Jacques poi decise di farsi pagare in contanti e subito quello che si comperava. A Taizè non si trovava vino ed era un problema perché con il vino si potevano organizzare brindisi e chiacchierate anche e soprattutto con ragazze di altre nazioni. E' risaputo che il vino aiuta a comprendere meglio le lingue straniere ma lo Jacques vendeva solo birra. Ivano risolse il problema. Scusate, ma se i preti dicono messa, spezzano il pane e bevono il vino. In chiesa il vino deve esserci. Effettivamente il ragionamento calzava. Ma chi ha il coraggio di andare a prendere il vino benedetto dentro una chiesa? Tutti! Tutti noi a turno andavamo in chiesa. dietro l'altare maggiore una porticina portava in una stanzetta dove si teneva il vino per le messe. In effetti pensavamo di essere originali e un po' malefici nel risolvere così la questione etilica. Brindammo con piacere e svuotamo in fretta la prima bottiglia di vino bianco. Ma quando gettammo il vetro oltre la siepe con molto stupore sentimmo il tintinio di altri vetri. qualcuno prima di noi aveva avuto lo stesso problema e trovato la stessa soluzione. Bisognava anche procurare il cibo a costo zero. Funzionava una specie di mensa dove prendevi una ciotola e un cucchiaio che poi dovevi risciacquare con sabbia e acqua e impilare. Ti davano il cibo solo se presentavi un bollino colorato ogni settimana diverso dalla precedente. I bollini grandi come francobolli si compravano agli accoglienza. questi bollini erano stampati un foglio da dove venivano strappati e il contorno gettato e quei preziosi ritagli erano la nostra salvezza. Prima cosa impossassarsi dai pezzi scartati e mettersi in fila dove ci fosse una ragazza che serviva possibilmente giovane poi avvicinarsi farsi servire sorridere e fare un complimento carino con lo scopo di distrarla quindi buttare il rettangolino di carta nel mucchio con i bollini veri. Era importante non farsi servire dalle suore e dai maschi è difficile fare complimenti alle suore e distrarle sono vecchie di mestiere ed il fascino latino non suscita il loro interesse con i maschi è più complicato puoi fare dei complimenti che potrebbero non essere graditi il che è male ma peggio potrebbero essere graditi e quindi non privi di conseguenze a fianco della fila per il cibo c'era un tabellone dove venivano appese le cose che si trovavano smarrite in giro per il campo un giorno passando Loris vide una striscia di bollini infilzata con una spilla io crei un diversivo facendo cadere la ciotola e creando confusione per attirare su di me l'attenzione della gente in fila Bigi staccò i bollini ma era una trappola un malefico piano ideato per smascherare le nostre faticose piccole truffe ci lasciarono mangiare poi vennero a dirci che i nostri bagagli erano all'accettazione ed il pullman per cruny sarebbe arrivato da lì a poco fu un'ingiustizia è troppo facile fare i pastori per le pecore buone noi siamo le pecore nere siamo più bisognosi del vostro aiuto vorremmo parlare spiegarci farvi capire che siamo pentiti provamo in tutti i modi di convincere quei buttafuori del nostro vero pentimento ma non funzionò anzi si arrabbiarono parecchio quando Bigi disse e poi il vino della vostra chiesa fa schifo furmo espulsi quella fu la terza volta in tre anni la prima volta fu di mattina lo giac era aperto stranamente visto che c'erano i vari gruppi di lavoro all'opera stavamo seduti al sole a berci una birretta quando in quattro arrivarono chiedendoci se conoscevano lo swimming group con entusiasmo dicemmo siamo noi ci fecero salire in corriere per cruny gli zaini erano già a bordo il trucchetto dei cartelli per creare la zona silenziosa funzionò fino alle undici del giorno dopo giusto in tempo per salire la seconda volta sul pulmo per cruny l'ultimo pulmo per cruny fu memorabile loris da nostalgico pensò di lasciare un piccolo souvenir era da un paio di giorni che passava il tempo ad insegnare una canzoncina a due ragazze tedesche che non parlavano italiano e quindi probabilmente non conoscevano neanche il dialetto veneto ma la famosa canzoncina di fra martino si solo le parole erano un po' diverse anche se la rima in fondo c'era il frate era fra pierino l'ha detto al gruppo italiano e le campane non facevano ding dong dan ma la rima c'era ricordava molto il famoso ip 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 inventato a casa di capo mentre stavamo salendo per la terza ed ultima volta nel pulma loris vide le ragazze tedesche e le salutò lui cantando il vero fra martino loro in coro ad alta voce invece a rispondere con avversione alternativa e blasfema non è vero che gli uomini di chiesa sono sempre pacati e tranquilli quella volta erano indecisi se salire a bordo e strozzare il direttore del coro o stare a terra cercando di zittire le procaci fanciulle che si esibivano dimostrando una gradevole capacità di sacramentare a cappella nel nostro dialetto la situazione colsa la sprovvista ai bravi custodi quel tanto che bastò a far partire il pullman a bordo giurammo di non rimettere più piedi a Taizze per paura di essere riconosciuti e con il fondato dubbio di essere scadati a vita con tanto di foto Raffaele aveva dato la maturità e voleva fare un giro in autostop io volevo fare il servizio civile e quell'estate desideravo andare a Massafra dove si svolgeva un campo scuola sulla non violenza di una settimana andiamo insieme direzione pianoro della masseria a Massafra Taranto 950 km l'Italia è lunga e stretta soprattutto lunga ci vollero due giorni la prima notte dormimo dietro una stazione di servizio trovai un segnale stradale rotondo del diametro di un metro lo posai tra i due argini di un fosso asciutto e ci dormii sopra Raffaele invece dormì nel campo la sera dopo arrivamo a Massafra era quasi notte verso le 23 un branco di cani randaggi ci accolse e al nostro passaggio continuava ad abbaiare quando cominciarono ad accendersi le luci di qualche finestra ci allontanammo dal paese e decidemmo di cercare il pianoro il giorno dopo c'era un grande albero in mezzo a un campo arato da poco a calci spaccammo alcune zolle per creare una zona piana per dormire poi stendemmo le stuoie e i sacchi a pelo mangiamo sgombro in scatola e pane in cassetta con l'acqua è importante avere l'acqua perché lo sgombro ti secca la bocca e crea un pastone che digerisci dopo vari giorni senza acqua rischi di morire strozzato dallo sgombro e non è una bella cosa morire per colpa dello sgombro assassino la mattina successiva scoprimmo che l'albero segnava il confine di due proprietà una arata dove avevamo dormito rompendoci la schiena l'altra un prato di soffice erba la notte prima troppo stanchi avevamo scelto il lato sbagliato arrotolate stuoie e sacchi indossati gli zaini partimmo per il paese il caffè in vetro esiste solo nel sud Italia come la granità al caffè impossibile riuscire a bere una cosa più buona nelle mattine d'estate con un ultimo passaggio in trattore e su una strada sterrata arrivamo al pianoro della masseria dove vedemmo i trulli per la prima volta Raffaele ci dormì dentro a un trullo io invece mi sistemai sulla terrazza della casetta nell'orto volevo dormire lì perché di sera avevo il cielo e infinite stelle da guardare alla mattina scendendo per la colazione passavo per l'orto e mangiavo una manciata di pomodorini piccoli tondi e dolcissimi tutti i corsisti si raccolsero venimmo disposti in fila con la fronte verso il sole lì conoscemmo Antonino Drago docente universitario esperto di non violenza capelli chiari barba baffi e occhiali pareva un professore saggio e a modo solo stanava un po' la sua tunica corta con disegnato sulla schiena un grande sole ci parlò di tecniche non violente di rispetto della natura e del bisogno di fermarsi per ascoltare i rumori della vita ci insegnò l'importanza di prendere coscienza dello scorrere del tempo ogni mattina prima della colazione ci mettevamo in fila fronte al sole per rilassarci e ascoltare il proprio respiro poi bisognava rompere le righe abbracciare e baciare tutti gli altri la colazione consisteva in caffè d'orzo pane marmellate fatte in casa frutta ma cos'è questa tisana che non l'ho mai bevuta Raffaele non conosceva il caffè d'orzo ma io sì ricordo una pentola dal fondo bruciato e nero mia madre ci metteva l'acqua e due cucchiai di orzo poi lasciava bollire una volta freddo filtrava tutto e metteva il liquido in una bottiglia in frigo veneva usato nel caffè latte al posto del caffè bon quello riservato agli ospiti a Massafra però l'orzo non lo filtravano all'inizio ci stavamo attenti ma poi mangiavamo tutto anche lì in dotazione davano una ciotola di legno ed un mestolo che pulivamo con sabbia e acqua alla faccia del sole piatti ognuno aveva dei compiti a rotazione pulire la cucina preparare il pranzo raccogliere le verdure e raccogliere lo sterco secco delle vacche per portarlo nella concimaia molti preferivano pulire le verdure roba da rimpiangere lo swimming group ad ogni ora suonava una campanella tutti si fermavano fronte al sole liberavi la mente ed ascoltavi i rumori il lavoro distrae non ci si accorge di essere vivi e il tempo passa nella nostra indifferenza perdiamo vita senza accorgersene uno dei tanti insegnamenti di tonino drago al pomeriggio facevamo yoga si imparavano posture incredibili come quella nella quale stava in equilibrio su una gamba sola l'altra gamba piegata ad angolo di lato con la pianta del piede a toccare il ginocchio della gamba a terra le mani distese sopra la testa con i palmi uniti a creare una specie di punta sopra la testa erano comuni i capitomboli una sera ci portarono a Massafra per una conferenza senza cenare perché era previsto un rinfresco dato che gli argomenti erano noti il gruppo del pianoro della masseria decise di girare per il paese perdendosi mi ritrovai in mezzo delle viuzze poi vidi un vecchietto gli chiese se per caso aveva visto dei ragazzi in giro vieni vieni con mia che te porto io non avendo con me il vocabolario pugliese Veneto lo seguì per curiosità il vecchietto entrò in una casa bianca a dire il vero tutte le case erano bianche e fatte in modo strano un misto di costruzione tra una grotta e una casa spesso i tetti non c'erano quasi tutti finivano con la terrazza dicevano servisse per raccogliere l'acqua o per costruirci un altro piano se bisognava ingrandire la casa una volta entrati il vecchietto mi portò giù per una stretta scaletta di cemento bianca sotto grande come tutta la casa c'era una cantina con botti di legno di ogni misura e seduti in cerchio tutti i ragazzi della masseria con un bicchiere in mano Raffaele aveva le guance rosse e a guardarli bene anche gli altri erano rubicondi di certo non erano il primo bicchiere anch'io gustavo il vino e senza accorgermene divenne rubicondo anch'io fu una rivelazione era un vino bianco secco e fermo con una buona gradazione ed un gusto strano fruttato ed il profumo che ricordava l'uva ma anche la frutta non si capiva bene è della pesca ogni famiglia ora capivo il nonnino non servono vocabolari nelle cantine il segreto del nonnino consisteva nel mettere delle pesche nel mosto e queste davano un profumo inebriante ora dovevamo mangiare qualcosa in qualche modo ci alziamo in piedi salutiamo il nonnino che gentilmente ci aiutava a salire i gradini quindi uscimmo poi il vecchietto ci rincorse tirando uno di noi per un braccio ehi stu vagnone buesciu non lo potete mica alzare acquai capimmo di aver dimenticato uno in cantina e che il nonno non voleva tenerselo allora lo portammo con noi la conferenza era ormai finita e cominciarono a comparire pizze enormi focacce fatte con olio pomodorini origano calde e profumate misero in tavolo anche un cesto di pomodori una vasca di terracotta con acqua bottiglie di olio sale e vasetti di acciughe su un paio di cesti di vimini c'erano mucchi di ciambelle di pane secco e durissimo scoprimo le friselle e fu una delizia a non contare il primo morso di Raffaele che per poco non ci rimise un incisivo per mangiare le friselle senza perderci i denti c'è un solo modo prendere la frisella e bagnarla nell'acqua poi strusciarci sopra dei pomodori fino a romperli irrorarla di olio un pizzico di sale e allora sì che puoi mangiarla chi voleva aggiungeva origano o acciughe scoprimo anche un vino rosso il cui nome suggerisce il gusto il primitivo il suo nome dice tutto altro di quella serata non ricordo durante i pomeriggi stavo all'ombra di un olivo enorme accanto a me chissà per quale motivo stavano tutti i bambini e le bambine che abitavano lì in me vedevano qualcosa che Raffaele non capiva e nemmeno io capivo a Massafra abbiamo incontrato persone incredibili del resto cosa potevi aspettarti un campo sulla non violenza dove raccoglievi sterco secco praticavi yoga e alla mattina stavi di fronte al sole ad abbracciare e baciare degli sconosciuti tra questi sconosciuti un frate cappuccino in incognito senza saio una sera ci raccontò della madre morta da poco e di una poesia a lei dedicata che le aveva scritto per il suo funerale lo invitammo a recitarla per noi il testamento della lodola di Flavio Gianessi ti lascio terra color delle mie piume e più dentro a te entro nel tuo corpo col mio color di te ti lascio il corpo prendimi mentre ti lascio tienimi forte e leggera per l'ultimo mio volo quando entrerò in te con gli occhi della sera e tu a te sera lascia il mio sguardo gli occhi quasi addormentati come ogni sera perché mi fido di te cui ogni sera affidavo gli occhi e poco prima dell'alba mi risvegliavi silenziosa e ti vedevo mentre la luce ti prendeva in sposa con gli occhi dell'aurora luce sole se gli occhi ho donato la sera a te cosa do tutta la mia forza il mio calore quando scaldavi il cuore e ti correvo incontro e ti giravo attorno e ti cantavo il canto che tu sai ed eri mio e non ti avevo mai ed eri mio quando scioglievi inverno e a me donavi primavera e l'acqua di te calda nella sera acqua a te che mostrasti per prima il mio volto laggiù nel mio stagno pieno di voci e di rumori amici che non si tacciano a sera a te acqua a te e al vento do il mio canto la mia preghiera il vento giocava con te e con le nubi come dei riccioli di fanciulla ingenua e casta e portavi lontano le mie ali e la mia voce e il color delle mie piume solo ti prego pioggia di non scendere fredda sulle mie ossa a impastarmi di terra ma calda dammila a dio e voi fiori frutti verde grano dei boschi e dei prati e tu rosso tulipano cosa lascio a testamento a voi che tanto avete dato a me e ai tanti amici una preghiera e l'ultima coprite voi questa mia piccola fossa senza sponde così come vi semina il vento che seminò il mio canto ed ora l'ultimo m'accoglie silenzio e commozione flavio spiegò che la lodola quando sente di dover morire vola verso il sole e canta per lui fino a cadere sfinita per poi lasciarsi andare c'erano anche due ragazze torinesi di un loro amico uno spilungone magro e dinoccolato con un cespuglio riccio e biondo in testa e un paio di occhiali con montatura e lenti ambrate tornando da Massafra beccammo un bel passaggio lungo Raffaele era a fianco dell'autista e io sonnecchiavo dietro in quel passaggio Raffaele raccontò all'autista tutta la sua paura per l'esame di maturità la difficoltà di concentrarsi la responsabilità del risultato e il dubbio di non riuscire a regalare ai suoi la soddisfazione di un bel voto di tutto questo in quasi 2000 km non ne parlo mai con me scelse un estraneo un occasionale gentile autista che non avrebbe rivisto mai più strano ma a volte più facile condividere i propri stati d'animo con uno sconosciuto piuttosto che con un amico in autunno decidemmo di andare a trovare i tre torinesi ci accolsero a casa dello spilungone passiamo una giornata dentro una stanza piena di cuscini e materassi in penombra una lieve musica delicata faceva da sottofondo le nostre chiacchiere lo spilungone ci raccontò che aveva montato dei nastri speciali che riproducevano quella musica per ore per un giorno intero parlamo di qualsiasi cosa con lui e con le due ragazze mesi dopo quando Torino era solo un ricordo arrivò una lettera dalle due ragazze il loro amico lo spilungone con gli occhiali e il cespuglio in testa si era ucciso aveva svuotato un flacone di insetticide in un bicchiere e lo aveva bevuto lo trovarono dentro la stanza tra i cuscini e la dolce musica di sottofondo che ancora girava nel mangiacassette decise di tagliare il filo sottile che lo sosteneva appeso in attesa di cadere lo tagliò immerso nella sua musica preferita uccidendosi in una agonia terribile